Parola, innanzitutto spero che state bene, ma questa sera è arrivato il momento di incassare per i tigri più potenti al mondo dal giorno zero. 200 tigri questa sera avranno un regalo da me e dal mio socio che vive qua a Zurigo per farvi capire che chiacchiere non ne facciamo. 200 tigri basta incollare, copiare e incassare, ok? Vi lascio il link con l'assistenza, questo è il nostro business, poi non dite che non ve l'ho detto, ok? E vi lascio anche il tag vedere il mio amico, spingiamo, dio santo, perché siamo dei tigri più forti e più potenti al mondo e lo sapete che io chiacchiere non ne faccio perché ci metto la faccia e ce l'ho messa sempre e ce la metterò sempre dal giorno zero. Vi voglio bene, dio santo. Ragazzi, lo sapete, la tigre ha sette vite, sono come i gatti, non muore mai, vi suscio da sempre, sto bene, lavoro, sono sereno, tranquillo, sono staccato un attimo dei social perché magari nella vita reale ci sono cose molto più importanti e quindi adesso stiamo tornando con il nuovo business e con tanti contenuti perché tra un po' parto per Istanbul e Turchia che mi vado a rifare un pochettino, quindi diventiamo più belli di quanto siamo, dio santo, ok? E vado solo in pro, ferocissima. Vi voglio bene e mi raccomando, ferocissimi dal giorno zero, bella. Prima cosa, quando riuscirete a fare meno di tutto, allora sotto veramente c'avevi i coglioni, fidatevi di me, a me niente e nessuno mi comanda, io non dipendo da nulla, da niente, da nessuno, ok? Questo ve lo voglio dire, e chi mi conosce dal giorno zero sa benissimo io che carattere c'è o che persona sono, ok? Perché sotto i coglioni ce sono ancora. Io mi sto preparando il pranzo per domani per lavoro, aglici, capperi, tutta roba piccante siciliana adesso, bella ragà. E mai criticare la cucina carciata alla tigre, ratti.